Cari amici, buon primo maggio a tutti e aggiungo anche nel ricordo di San Giuseppe del Falegnano. Voi sapete che malgrado il primo maggio è una festa che non si potrebbe immaginare concepire più laica, politica, sociale, però non è disdicevole ricordare come a un certo punto della sua storia la Chiesa Cattolica ha pensato di abbinarsi in qualche modo a questa festa che nasce come ben noto alla fine dell'Ottocento dagli Stati Uniti poi verso l'Europa attraverso vicende terribili e che non è certo compito mio che non sono né un politico né un sindacalista ma chi conosce la materia sa bene la rilevanza e la gravità nel senso antico del tempio di questa consacrazione. Oggi si scherza molto sul fatto della festa del lavoro, del lavoro che non c'è. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e certo che in questi giorni più che mai questa riflessione affligge tutte le nostre menti. Già questo fondamento del lavoro negli ultimi tempi, nell'ultimo decennio, si è molto indebolito nella struttura portante della società a prescindere dalla nostra posizione ideologica. Poi naturalmente la pandemia ha fatto la sua parte in un modo pesantissimo, tuttavia è un problema talmente gigantesco che non saremmo certo noi a indicarne via di soluzione. C'è chi ci pensa e l'augurio più importante che possiamo rivolgere a tutti noi è che chi ci pensa ci pensi bene. Come storico dell'arte però non posso negarvi che ho sempre avuto un particolare interesse a questo abbinamento curioso di cui dicevo, e cioè il fatto che la Chiesa a un certo punto ha ritenuto di essere vicina a questo momento cruciale. E naturalmente nella figura di San Giuseppe perché San Giuseppe è un lavoratore, a differenza di suo figlio, diciamo la verità. Perché se andiamo a leggere i Vangeli canonici, i Vangeli apocrifi, gli Atti degli Apostoli, tutte le testimonianze sulla figura di Gesù Cristo e ci chiediamo che mestiere facesse, sì potremmo dire il predicatore. E non che il predicatore non sia un mestiere perché poi il mestiere, il lavoro del predicatore è confluito nei secoli in quello dell'oratore, quindi dell'avvocato, quindi dell'uomo di legge, del politico, ben inteso. Quindi non sottovalutiamo questo aspetto, però insomma diciamo che è un lavoro pure quello che implica profonde cognizioni giuridiche, economiche, però insomma diciamo non è propriamente un lavoro manuale, non che il lavoro sia solo manuale, poi io che faccio come dire di mestiere in qualche modo lo storico dell'arte, certo non è proprio un lavoro manuale, però è curioso e divertente il fatto che gli artisti nel corso dei secoli questo aspetto, non voglio dire anomalo, ma insomma certamente è curioso, se ci mettiamo nell'ottica attuale, del nostro redentore che certamente ha fatto qualcosa di molto importante per l'umanità, però nella sua vita personale effettivamente un mestiere forse non ce l'aveva. Allora, la tradizione vuole che il padre ci ha provato in qualche modo a dargli un mestiere, secondo un'impostazione tradizionale, eterna potremmo dire, quella per cui i padri passano i figli, i genitori, passano i figli quando sono artigiani soprattutto, le loro attività, anche quando sono commercianti, anche quando sono imprenditori, politici eccetera eccetera. La famiglia, l'importanza della famiglia sotto il profilo lavorativo è un grandissimo tema della storia sociale. E in effetti in certi periodi della storia dell'arte alcuni artisti hanno rappresentato quel momento, quello in cui il padre putativo cerca di iniziare il figlio nella sua attività. Ma insomma sono raffigurazioni sovente molto tenere, molto delicate, ma che dicono poco da questo punto di vista. Oggi, pensando alla festa del lavoro, mi si è ripresentato alla mente un quadro, veramente bello, una cosa notevole, che in qualche modo onora davvero questa festa del lavoro anche sotto il profilo religioso. Ma perché? Perché si tratta di un caso tipico della storia dell'arte, italiana e non solo italiana, cioè un'opera in sé, un'opera d'arte in sé veramente ragguardevole, bellissima, affascinante, piena di stimoli, di spunti alla riflessione, di cui però in realtà non si sa praticamente nulla, non si sa l'autore, non si sa la storia, la genesi, e non di meno è un grande emblema della nostra cultura artistica. E nel caso specifico dell'opera di cui vi parlo, questo grande emblema della nostra cultura artistica è emerso alle nostre coscienze proprio a seguito di una intensa, seria attività lavorativa da parte degli esperti della disciplina, cioè gli storici dell'arte. Perché vi dico questo? Perché in realtà nella nostra mentalità sovente il mestiere dello storico dell'arte, non tanto dell'artista, tutti siamo pronti a condividere il concetto che l'arte è un mestiere, certo, una professione è un mestiere. Lo storico dell'arte nella nostra società è, sì, da un lato visto come un professionista acclarato e addirittura consagrato nelle strutture ufficiali, nel Ministero dei beni culturali, gli storici dell'arte, quindi pubblici dipendenti, costituiscono una delle ossature, potremmo dire, strutturali di questa funzione. Quindi lo storico dell'arte come l'architetto, come l'archeologo è un professionista pubblico, poi è un docente, presso le università ci sono le carte dell'istoria dell'arte. Quindi non si può certo sostenere la tesi che lo storico dell'arte non è una persona che lavora. Però questo lavoro è stato sempre visto dalla società come un lavoro molto connotato di dilettantismo, vogliamo dirlo, di estetismo. Cioè, vi faccio un esempio personale. Io ho fatto lo storico dell'arte istituzionale, presso, in servizio del Ministero dei beni culturali per tanti anni, anche in parte in struttura universitaria, quindi ho esercitato, esercito tuttora questa professione. Ma nel corso della vita mi è capitato ripetutamente di sentirmi dire, con mia profonda invitazione, da parte di persone anche competenti e colte, cioè, ma tu sei un esteta, insomma, come a dire? Sì, vabbè, ti occupi di arte, ma occuparsi di arte è un qualche cosa di decorativo, di intimo, di interiore, ma di perfettamente inutile sotto il profilo della produzione lavorativa che è l'ossatura della società. Ebbene, voglio rendere così omaggio a un gruppo di storici dell'arte che di questa attività, intesa veramente come professione attiva, come lavoro, anche ben faticoso, hanno fatto la loro bandiera e sono stati e sono esempio per tutti noi. L'opera di cui vi parlo, infatti, è stata rintracciata attraverso un lavoro veramente indefesso, impegnativo, faticoso, che questo gruppo di esperti ha sviluppato parecchi anni fa, per concretizzarlo poi in pubblicazioni, mostre, eccetera, eccetera. Chi sono queste persone e qual è l'opera di cui parliamo? È questo quadro che rappresenta la bottega di San Giuseppe che fu identificato da questi ricercatori in un modo veramente singolare. Qual era l'obiettivo della loro ricerca? Andare a perlustrare una regione italiana in particolare, ricchissima di arte, ma geograficamente non facilmente, come dire, sempre raggiungibile, e cioè l'Umbria, andando a cercare passo passo, per ogni centimetro quadrato di quel, peraltro, piccolo territorio, tutte le testimonianze d'arte accumulate, sì, soltanto in un periodo storico, tra l'altro, non per tutta la storia dell'arte, nel 600 e nel 700. Ne scaturirono dei libri intitolati Ricerche in Umbria, pittura del 600 e del 700, che sono stati per noi studiosi dei modelli di modo di fare ricerca, di intelletto, per così dire, intelletto d'amore, come dicevano i poeti di un tempo, cioè come questo grandissimo amore per l'arte abbia provocato un enorme ampliamento delle conoscenze. Ebbene, un giorno questi ricercatori, esplorando palmo a palmo l'Umbria, si trovano in una zona che, sentite come la descrivono nella pubblicazione che poi seguì di questo quadro. vediamo un po'. Oh, scusate, ho aperto il libro in un punto sbagliato, avevo messo pure il segnalino, come ricercatore forse non sono così capace. La tela, sentite un po', orna un altare secondario, si tratta di una grande pala d'altare, di cospicue dimensioni, cioè una pala d'altare, è una tela alta quasi 3 metri, 2,65 metri, e larga quasi 2, un'opera monumentale, già questo solo fatto. Ebbene, orna un altare secondario, privo di qualsiasi corredo documentario, araldico epigrafico, nella piccola chiesa già parrocchiale di Serrone. Questo nome? Ma cosa ci dirà? Cos'è Serrone? Un'esigua villa di transito, legata alle modeste correnti di traffico di un itinerario, parallelo, prima al corso del Vigi, poi a quello del Benotre, che costituiva uno dei collegamenti tra la strada della Valle del Nera e quella che da Foligno risaliva l'Appennino fino al Valico di Colfiorito e alla Marca Camerte, terra anch'essa della chiesa. E poi, continua la descrizione, ditemi un po', cari amici, leggendo questa descrizione, visualizzate facilmente questo luogo, la cittadina di Serrone, quella Valle. Ma io non credo proprio. E guardate, ve ne parla uno che, originario io, in parte perlomeno, della Marca, verso Sant'Angelo in Vado, poi Cinco, da dove viene parte la mia famiglia, ho una certa pratica del transito in quei luoghi, ma prima che lo scopritore di questo quadro, il professor Bruno Toscano, insieme col gruppo dei ricercatori, da lui costituito, che voglio citarvi proprio per onorare questi grandi lavoratori delle belle arti, e cioè Liliana Barroero, Vittorio Casale, Giorgio Falcidia, Fiorella Panzecchi, Giovanna Sapori e Bruno Toscano Medesimo, e poi anche altri che però non sono citati in questa pubblicazione. ecco, questi egregi lavoratori sono andati a ritrovare una miriade di cose nei posti più incredibili. Ma vi rendete conto, cari amici, un capolavoro cospicuo dell'arte, come è evidente osservando l'immagine, sta in questo veramente luogo non certo abbandonato da Dio e dagli uomini, perché a quanto pare Dio e gli uomini lo hanno frequentato, ma pensate quale grande lezione promana da quest'opera, da questo episodio, da questa esperienza. Sì, insomente si fa una gran retorica, a mio avviso, asfissiante, insopportabile, cretina, e cioè da parte di alcuni esperti, studiosi, il patrimonio artistico italiano è disseminato sul territorio in modo capillare, fenomeno unico al mondo, c'è la più grande densità di patrimonio artistico in Italia che in qualunque altra parte della Terra è l'80% del patrimonio mondiale, il 70%, il 90%. Tutte cose sacrosante, cari amici, ma dietro queste postulazioni si scela il vuoto mentale di chi le dice. Cioè, ma quando abbiamo detto questo, che abbiamo scoperto, è che vale la pena di creare percorsi turistici alternativi, si dice sempre che non bisogna andare soltanto a vedere il Colosseo, beh, di tutte queste scemenze ha fatto giustizia alla pandemia, cioè, facendoci pensare che sarebbe ora di finirla di questi assembramenti ridicoli e nocivi poi peraltro alla salute che ci fanno dimenticare poi la sostanza dei veri problemi culturali. La storia di Serrone, quella si deve farci riflettere e pensare. L'amore immenso per il lavoro artistico effettivamente si arriva anche nei luoghi più sperduti a farci capire la necessità per così dire di questo tipo di lavoro, di questo approccio. Pensate, malgrado le ricerche appassionate degli studiosi che vi ho appena citato, ancora oggi nulla si sa di questo mirabile, veramente mirabile dipinto. E' deliziosa l'idea iconografica, la mamma sta in tenta all'opera femminile in tenta come diceva Leopardi sta cucendo e lì nella bottega bellissima bottega del San Giuseppe un bell'uomo vigoroso anche se di età matura e lì rito in piedi il bambino in mezzo e utilizzando i fili di cui la madre stessa si serve per cucina sta prendendo due pezzettini di legno che evidentemente sono il risultato del truciolato quasi che poi si vede anche a terra del lavoro del padre e si sta confezionando un oggetto in forma di croce sorride è un una immagine idilliaca stupenda di questo fanciullino con questi boccoli e è molto probabile che il pittore che ha eseguito questo quadro fosse non italiano forse fiammingo francese provenzale chissà basta vedere la finestra che è sullo sfondo del quadro è proprio una finestra gotica che con l'Italia insomma c'entra e non c'entra gli studiosi hanno pensato si vede che un artista proveniente da fuori da fuori d'Italia ha fatto questo quadro richiamando nel quadro stesso le sue origini culturali questo quadro che emana sorriso dolcezza quiete è un qualche cosa di magnifico come è possibile che non si sappia nulla di un pittore del genere ma chi è il grande pittore che ha eseguito questo quadro e come mai lo ha fatto per serrone per questo borgo ma nemmeno questo è sicuro può darsi che quel quadro sia stato portato in questo piccolissimo borgo non quando è stato eseguito ma molto tempo dopo i ricercatori un'intuizione l'hanno avuta hanno notato che a Roma nella chiesa del Gesù su un altare dedicato proprio a San Giuseppe c'è un quadro un quadro dell'800 del 1890 di un pittore un grande pittore dell'800 Cagliardi che rappresenta la bottega di San Giuseppe in modo molto simile a questo dipinto e hanno notato che in giro per l'Italia altri quadri che rappresentino la bottega di San Giuseppe in quel modo non si trovano l'unico caso è quello anche se a grande distanza di tempo per sapere cosa potrebbe essere successo che questo grande maestro operoso quadro il quadro non è non è non è datato quindi lo possiamo datare con lo stile forse alla fine del 500 nei primissimi anni del 600 può darsi che questo grande maestro abbia dipinto questo quadro per la chiesa del Gesù di Roma che il quadro si è rimasto per un certo tempo forse addirittura secoli lì poi si è stato tolto chissà perché per motivi personali nella storia dell'arte succede continuamente le opere si spostano eccetera si è finito questo piccolissimo e mirabile luogo dell'Umbria e si è stato sostituito da un pittore dell'800 che ha voluto però riecheggiare quel tema e chi era questo pittore forse non italiano così fine così intimo così puro nella sua espressione tanto da destare noi sentimenti di profonda ammirazione e rispetto anche per la festa stessa che in qualche modo noi oggi colleghiamo la festa di San Giuseppe peraltro non è il primo maggio lo sapete a marzo ma ecco una grande lezione dell'arte non abbiamo notizie precise però una notizia ce l'abbiamo è l'opera d'arte stessa un grande dono un grande beneficio al nostro pensiero i ricercatori hanno notato che su uno degli oggetti lì della bottega del santo sul quadro c'è scritta una lettera però una G che vuol dire che la firma del pittore non lo hanno spiegato e chissà che qualche ricercatore in futuro lo spieghi una bella parte del nostro lavoro di addetti diciamo così alle belle arti che Grazie a tutti